Quest'anno siamo cresciuti come evento, abbiamo un bel programma, abbiamo anche persone che arrivano fuori, arrivano dalle Marche, da Bologna, da Lecce, arrivano gruppi da Torino, da Roma, abbiamo un evento importante come una sfidata di moda organizzata da Silvio Luciani, che faremo qui lungo la scalinata, in collaborazione con Camillo del Romano. Quest'anno abbiamo creato questa nuova associazione composta da due elementi nuovi, io sono il presidente, Angelo Lanci vicepresidente, Franco Battisteta, segretario, e il consigliere Antonio Spadano. Partiamo domenica, sabato 19, con la sfidata di moda, che faremo qui lungo la scalinata, poi subito dopo avremo dei gruppi. Un gruppo che arriva da Torino, che dicevo prima è Nixai Vai, e un gruppo ex Turbolenti che si sono, diciamo, riorganizzati con un nuovo cantante, molto 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 bravo, poi domenica pomeriggio abbiamo un'altra sfidata che faremo con le ragazze del posto, dove premeremo l'outfit più bello, e arriviamo altri due gruppi, i Fuzzy Dice e un altro gruppo del luogo, e qui abbiamo due burlesque che arrivano, due burlesque professionisti che arrivano da Roma. Questo è il nostro programma.